ciao ragazzi e benvenuti sul nostro canale oggi come di consueto andremo a fare una carrellata delle novità più importanti di omassistan nello specifico la versione di febbraio che è uscita proprio proprio ieri quindi mando alle ciance e iniziamo subito col vedere le principali novità allora come avete visto ho aggiornato già la versione alla 2023 2.0 che è l'ultima una delle più importanti novità è finalmente il supporto annunciato della voce quindi se noi andiamo a vedere in panoramica troveremo questo bellissimo nuovo tasto che ci permetterà di usare assist che non è nient'altro che un assistente che in questo momento è possibile utilizzarlo tramite tastiera quindi all'assistente qua potremmo dire ad esempio di andare a azionare una luce una tapparella qualsiasi cosa basterà scriverlo quindi non so per esempio potrà e soprattutto ragazzi ha supporto di ben se non ricordo male 22 lingue tra cui l'italiano quindi in questo caso lui cercherà di accendere la stampante infatti me l'ha accesa e ho acceso la stampante quindi questa cosa qua potrebbe essere molto comoda anche nel momento in cui andremo a usarla per esempio tramite cellulare se non vogliamo parlare con la voce ma niente ci vieta di andare a cliccare l'iconcina per l'ascolto e dettagli il nostro comando via voce quindi questa sicuramente una grande future ora proseguiamo un'altra novità ovviamente io vi dico le novità degne di nota e le breaking change che sono anche anch'esse molto importanti un'altra novità degna di nota e praticamente il real time negli storici quindi quando noi andiamo a vedere uno storico di qualsiasi tipo quindi ad esempio questo della stampante che in questo momento però non ha niente quindi andiamo a prendere un qualcosa che ha uno storico un po' più importante vediamo se lo troviamo nel frattempo ho creato una dashboard vuota così da farvi vedere appunto questa modifica in real time della parte dei grafici storici quindi prendiamo per esempio una presa ok la salviamo e come potete vedere il grafico adesso si aggiornerà e si sposterà non so se lo notate in real time quindi questa è una delle importanti novità e oltre a questo hanno ottimizzato in maniera importante il database ed è per questo che se siamo riusciti diciamo ad arrivare alla verifica real time dell'appunto di qualsiasi tipo di entità direttamente sulle nostre dashboard quindi questa un'altra secondo me importante novità che ci consentirà anche di creare delle bellissime dashboard poi un'altra cosa degna di nota sono i sensori di raggruppamento cioè è possibile aggiungere tramite l'assistente di gruppo dei nuovi gruppi ci rechiamo prima di tutto ad aggiungere l'integrazione group group nello specifico helper ok e qua già parte una prima impostazione diciamo una sorta di wizard per la per la configurazione quindi noi potremmo gestire dei sensori binari delle coperture delle ventole delle luci eccetera eccetera adesso potremmo prendere i gruppi dei sensori binari dagli un nome molto di fantasia direi e andare ad aggiungere come vedete vi propone già tutti i sensori binari quindi ad esempio andiamo a inserire del nostro shelly tutti quegli elementi di allarme quindi supero voltaggio supero potenza eccetera eccetera e qua possiamo anche dire se questo nuovo sensore che verrà creato che include appunto questi altri tre sensori quindi avrà uno stato a sé se nascondere i membri che ci sono sotto oppure farli vedere in sostanza noi possiamo tranquillamente adesso fare così e avremo appunto un nuovo sensore binario come gruppo che è ovviamente questa cosa qua è possibile farla anche dal file YAM però questo è un helper che semplifica il tutto ci darà lo stato appunto di questi sensori quindi se tutti e tre sono spenti questo sensore sarà spento se uno anche di questi è acceso questo sensore sarà acceso potrebbe essere molto utile per segnalare eventuali non so luci accese piuttosto che in generale un allarme basato su altre allarme sotto questo per quanto riguarda il sensore binario però è interessante invece andare a scusa scusate un attimo è interessante andare a gestire invece i sensori con per esempio una media ammettiamo che abbiamo più sensori di temperatura adesso vabbè non starò qua a farvelo vedere ma mettiamo che abbiamo più sensori di temperatura e vogliamo di questi sensori di temperatura presenti in una stanza quindi tre sensori di temperatura in una stanza o di umidità avere una media con questi aiutanti quindi con questa diciamo gestione a gruppi è possibile definirlo vediamo se anzi riesco a farvelo vedere giusto al volo vediamo 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 proviamo a fare questo qua e andiamo ad esempio a mettergli le due energie ok vedete che qua basterà dirgli fammi una media quindi media energia e noi avremo un sensore che in automatico ci fa sensor media energia ci fa direttamente la media di dell'entità che gli ho dato quindi in questo qua in questo caso è 3 3 15 questo potrebbe essere importante qualora avete queste casistiche siamo ora oltre altre novità per esempio è stato migliorato espoma quindi l'integrazione di espoma adesso sarà possibile integrarlo senza bisogno di andare a specificare delle chiavi di criptazione perché adesso dialogano tra di loro inoltre viene messo a disposizione un sensore che consente l'aggiornamento o meglio di di sapere quando o meno aggiornare una determinata periferica e in una delle versioni successive di home assistant quindi non in questa in una delle prossime ci sarà la possibilità di andare a effettuare appunto questo genere di aggiornamenti direttamente home assistant cioè farà lui deploy home assistant su tutte le nostre periferiche passando oltre quindi ad altre novità un po meno diciamo importanti abbiamo una nuova integrazione per gmail che ci consente di automatizzare per esempio le risposte delle varie mail abbiamo l'integrazione di starlink quindi sarà possibile finalmente gestire la nostra parabola starlink direttamente da home assistant altra cosa è stato introdotto il supporto con integrazione a chat gpt di open ai che è appunto l'intelligenza artificiale una cosa molto in voga in questo periodo però attenzione che questo supporto si limita a diciamo hanno non può controllare i nostri oggetti domotici quindi si puoi parlare direttamente tramite una home assistant con il chat boot ma non puoi poi di fatto controllare tutta la tua casa domotica ma poi chiedegli tante altre cose quindi anche informazioni in generale passando invece un attimo alle breaking change sulle breaking change abbiamo una cosa molto importante per chi utilizza maria db perché è necessario aggiornare maria db all'ultima versione sia in termini di add on sia in termini di installazione normale in quanto se no avrete grossi ragazzi problemi di performance quindi io vi consiglio di aggiornarlo il prima possibile ancora prima di passare a questa versione che già nella versione di gennaio aveva qualche problema un'altra breaking change importante riguarda oltre vabbè a quelle che vi invito ad andare a vedere nella release note di home assistant su 10 mila alte integrazioni ma un'altra importante è quella riferita al recorder quindi quando noi andiamo a specificare il recorder nella nel file configuration lì dobbiamo stare attenti che c'è un parametro che si chiama update intervalle che è stato impostato come minimo a 5 l'update intervalle serve in sostanza a fare le commit sul database cioè a rendere persistenti i dati sul database attenzione che prima si poteva mettere un valore inferiore ma adesso per questioni di ottimizzazioni non è più possibile quindi il minimo è 5 bene ragazzi con questo vi ho detto tutto spero che il video vi sia piaciuto vi invito a lasciarci un bel like ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati anche su queste tematiche non solo inoltre da poco abbiamo introdotto gli abbonamenti un abbonamento interessante per esempio è oltre a sostenerci all'abbonamento sostenitore che ci offrite un caffè c'è anche l'abbonamento domotica per tutti plus che vi consente di accedere al materiale che noi facciamo vedere poi nei nostri video quindi script di home assistant automazioni dashboard file yaml e quanto altro anche ad esempio progetti per espomma interi quindi sketch di arduino eccetera eccetera quindi ragazzi abbonatevi per aiutarci anche a massa a dare sempre più qualità all'interno di questo canale quindi con questo è tutto io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito ciao ragazzi alla prossima